Di nuovo in diretta con gli ospiti di Panel Panel, prossimo giornalista, si occupa di tecnologia, di finanza, saluto in collegamento Gigi Beltrame, benvenuto. Ti raccomandiamo. Ci sei Gigi? Sì, sì. Eccoci, eccoci, ti ascoltiamo e ti vediamo. E iniziamo a parlare del tuo libro che si intitola Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale. Direi che è un titolo che è anche un programma che vuole spiegare come usare al meglio degli strumenti, ormai l'abbiamo capito tutti direi, anche più ostili a questi temi, strumenti che vanno conosciuti bene per evitare di fare danni. Poi parleremo anche di quali danni. Ma sai, il mio punto di vista è molto semplice, cerco di raccontare nel modo più semplice possibile che abbiamo un nuovo strumento digitale che c'è a fianco. Abbiamo imparato che abbiamo uno smartphone, abbiamo imparato che abbiamo Excel che ci aiuta a fare calcoli e quindi è arrivata l'intelligenza artificiale generativa che si da un lato spaventa e sicuramente spaventa. Se usate in un certo modo può essere di grande aiuto, toglie il problema del foglio bianco, ci aiuta a creare delle situazioni, a rispondere alle domande, cerca per noi le cose su internet. Quindi è certamente vantaggioso, però quello che mi interessava era raccontarlo alle aziende, quindi fare in modo che le persone possano capire come lavorare meglio e non avere paura dell'oggetto dell'intelligenza artificiale in sé, ma sfruttarlo perché altrimenti si viene totalmente sopraffatti. Ecco, parlavi di aziende, in questa trasmissione è capitato di parlarne con riferimento a un uso diciamo così più individuale, soprattutto ai fini di divertimento. Ci fai qualche esempio di come questi strumenti di IA generativa, lo ricordiamo che ci ascolta, IA generativa vuol dire intelligenza artificiale che è in grado di creare contenuti, testuali, video, foto, ecco questi strumenti come possono migliorare le performance di un'azienda? Ah, di un'azienda ma anche di una persona, perché poi alla fine sono le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Allora, l'esempio più semplice è rispondere alle mail, quindi spesso abbiamo delle difficoltà magari a rispondere ad una mail, l'intelligenza artificiale ci può iniziare ad impostare il messaggio, ma non solo, può leggere la conversazione che magari noi due abbiamo avuto di business e ci fa un riassunto che ci permette di capire meglio qual è il problema, di che cosa stavamo parlando. Quindi ci agevola sotto questo aspetto, questa è la parte diciamo banale. La parte più che altro creativa ovviamente sulle immagini, abbiamo visto tutti, insomma le immagini di Papa Francesco con quel grosso piumino e quello ci ha spaventato, perché è stata creata dall'intelligenza artificiale ma sembra reale. Ecco, sotto questo aspetto noi possiamo creare immagini per qualsiasi tipo di cosa, basta fare la domanda giusta, perché ecco il cambiamento di paradigma con l'interazione con le macchine, con il computer è proprio questo, dobbiamo forre noi le domande e ovviamente la macchina ci risponde. La macchina non sa, non conosce tutto, ha una grande libreria di dati ma ci risponde in base a che cosa? Ha delle probabilità, quindi ci fornisce la risposta più probabile. Quindi quell'immagine di Papa Francesco col piumino, perché avevamo fatto la domanda, faccio un'immagine infatti di Papa con un piumino al freddo, possibilmente molto voluminoso e che sta guardando lontano e ci aveva creato quell'immagine che immagino che quasi tutti abbiate abbastanza in mente, ma la stessa cosa vale, creami un'immagine di sfondo per un prodotto che sto lanciando, creami un'immagine che mi possa servire per la festa di mio figlio, piuttosto che creami gli inviti per la festa di mio figlio. Questo è il modo con cui lavoriamo, ovviamente ci permette di programmare, l'intelligenza artificiale è molto brava a programmare in qualsiasi linguaggio, ci permette di fare una serie di cose che per noi umani ci servirebbe tanto tempo. Io faccio sempre questo piccolo esempio e così ti rubo un minuto. Quanto tempo impieghiamo noi per leggere un libro di 500 pagine e quanto tempo ci impiega una macchina a leggere? Quindi pochi secondi a diverse ore. Il problema è che noi non ci ricordiamo tutte quelle 500 pagine, la macchina sì. Quindi la differenza sostanziale è quella. Ha capito? Probabilmente la macchina no, ma se fa una risposta in base alle probabilità, le nozioni lui le ha prese tutte. Noi facciamo un pochino più di fatica. Io direi, caro Gigi, certamente la macchina non ha capito, perché ci sono fior fior di scienziati cognitivisti che stanno dicendo non usate tutti questi termini umanizzanti quando si parla di software e di programmi. Però volevo anche farti una riflessione diciamo così poco tecnica e molto più generale. Mano a mano che si automatizzano i processi in un'azienda e quindi si dà la possibilità ai lavoratori di usare software come ChatGPT, Bard, Bing, Copilot, Microsoft, eccetera, eccetera. Diciamo che si riduce lo spazio di espressione anche di capacità del lavoratore. Quindi in qualche modo l'azienda non rischia, secondo te, di perdere anche quel positivo che nasce dalla contaminazione di competenze, nel senso che quando si fanno le riunioni si parla con i colleghi, nascono idee, creano scintille che portano risultati che magari da soli non si sarebbero raggiunti. Ma guarda, te lo spiego molto semplicemente perché poi provo a raccontare questo. Cos'è che cambia? Che noi facciamo una domanda alla macchina, ok? La macchina è lì, è inerme, ok? Quindi siamo noi che lanciamo la scintilla, lanciamo il sasso nello stagno e si genera l'onda. Detto questo, qual è il cambiamento? Che noi facciamo una domanda, la macchina inizia a darci una risposta. Se ci accontentassimo della prima risposta e non avessimo le competenze per capire se quella risposta è giusta o sbagliata, sicuramente stiamo facendo un errore, ok? Ci stiamo affidando al 100% ad una macchina, l'umano lì non funziona. Dov'è che funziona questo meccanismo e perché abbiamo i superpoteri? Perché noi possiamo interagire continuamente con quella macchina per affinare quell'idea che ci ha proposto, che magari dici, guarda è sbagliata, per esempio magari nell'intervento di stasera qui con te, potevo dirmi dammi 5 titoli per un post che posso fare magari sui social e lui me li propone. Non sono precisi, io inizio a interagire con questi post e da lì nasce la mia creatività che è aiutata da queste macchine, questa è la grossa differenza. Fino adesso siamo ancora in questo campo, dobbiamo vigilare affinché non demandiamo e non ci affidiamo alla prima domanda e alla prima risposta tutto quanto. Questa è la grande innovazione su cui dobbiamo vigilare, ripeto, è l'interazione che fa la differenza. Ma mi piace parlare di questi argomenti perché possono coesistere tanti punti di vista ed essere veri contemporaneamente perché laddove tu vedi uno stimolo alla creatività io vedo un grande rischio di eterodirezione, no? Ad esempio. E invece ti riporto ai giorni nostri perché? Perché giovedì scorso Microsoft ha cambiato alcuni termini della sua policy d'uso per i clienti business. Allora spieghiamo e cerchiamo anche qui di essere comprensibili, lo dico in premissa a me stessa. Microsoft ha creato Copilot che è un super mega assistente virtuale di intelligenza artificiale che fa cose straordinarie. Evita, come diceva Gigi, di farci leggere 300 pagine, le riassume, poi se vogliamo ce le ritrasforma in altre slide, in un report, in un documento, ascolta le call, ci fa le sintesi delle riunioni, eccetera, eccetera. E Microsoft giovedì ha detto, guardate cari amici clienti business che usate Copilot, da questo momento in avanti Microsoft in tutto il mondo copre le spese legali se mai vi dovessero denunciare perché avete utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa che violano la legge. Qui mi riferisco al diritto d'autore perché, come ben sai, questi grandi programmi sono stati costruiti razzolando online, rubando, perché il termine corretto da usare è questo, contenuti anche protetti da copyright. In tutto il mondo parliamo sia di opere, fotografiche, video e anche di testi, di libri venduti, eccetera, eccetera. Quindi il principio di Microsoft è molto prudente, dice, se io ti do uno strumento che ti dà come risultato un prodotto che viola in partenza i diritti d'autore in tutto il mondo e tu puoi essere denunciato, insomma, non è una tacita ammissione di colpa, secondo te? È una tacita ammissione di colpa. Anzi, direi anche molto poco tacita, visto che hanno fatto fior far di posto sul blog. Sì, quindi abbiamo, allora stiamo affrontando, allora ricordiamoci questo, l'intelligenza artificiale generativa non ha neanche un anno di vita, ok, al grande pubblico, al pubblico poi business arriva proprio, sta arrivando adesso in realtà, no, perché chi l'ha utilizzato o un chat GPT o un BARD o chi, o Bing, no, non poteva farlo per business perché c'erano tutti problemi di privacy, quindi non entriamo in questo ambito che ci complica la vita. Tutte quanti le big tech, l'ha fatto Microsoft, l'ha fatto Google, l'ha fatto Salesforce, che cosa fanno? Iniziano a dirti che tutto quello che starai facendo sulle applicazioni andrà ad alimentare la loro intelligenza artificiale e già questo era un primo passaggio, quindi noi stiamo già cedendo tutto quello che facciamo ad un'intelligenza artificiale, che ci piaccia o no. Questo è il primo passo. Il secondo passo è la protezione del diritto d'autore, io campo di diritto d'autore, quindi ovviamente sono molto attento a questo aspetto, no? Come si fa a capire se è una cosa fatta da un'intelligenza artificiale o no? In questo momento ci dicono che è quasi impossibile perché scrive quasi come un umano, batte il test di Turing, che ricordo è quel test che dice che una macchina se non viene riconosciuta come tale è un essere umano. Quindi abbiamo questi due problemi, non riusciamo a riconoscere cosa è fatta l'intelligenza artificiale, sulle immagini, sui video si cercano di mettere dei pixel nascosti che possano dirci che quell'immagine non è reale, ma il problema di diritto d'autore c'è, tanto che qualche giornale ha deciso di bloccare queste intelligenze artificiali che continuano a scandagliare la rete, penso al Wall Street Journal, ma tanti altri. C'è questo problema, è reale, ma ricordiamoci che in questo momento, anzi in questo momento già da prima, nessuna creazione di un'intelligenza artificiale può essere registrata con il diritto d'autore, quindi non si può dare l'autoriato ad un'intelligenza artificiale. Questo vale per tutto, vale per qualsiasi tipo di proprietà intellettuale. Allora, prima di salutarci ricordo il titolo del tuo libro, Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale. Direi che è il primo di una lunga serie che arriverà perché è davvero un nuovo capitolo che si apre per tutta l'umanità. Grazie Gigi Beltrame. Grazie a te per l'ospitalità. Adesso ancora un po' di musica.